buongiorno buongiorno a tutti buongiorno allora per le previsioni del lotto o chi vuole approvare questi questo ambo ambetto per vari napoli e tutti e speriamo che escono il primo colpo se non si continua fino a sabato prossimo per tre colpi comunque ok allora iniziamo bene questa settimana speriamo che torniamo alla nostra visita come sempre mi raccomando giocati sempre poco mi raccomando e speriamo bene ok allora 12 47 da domani ma 24 maggio martedì 24 maggio per tre colpi ok queste sono previsioni dell'otto e io lo sapete che si escono al primo colpo cambio ok di solito usci anche un numero uno su napoli uno su bari però si continua lo stesso perché il numero in un anno ma moria memoria ok e speriamo bene auguro a tutti voi buona giornata e buona fortuna per domani per il 10 all'otto già pubblicati anche milioni dei ok per il super lotto adesso vedo se riesco a pubblicare anche quelle comunque lo trovate sempre nel canale youtube chi non ha ancora scritto si iscrivi e speriamo bene ok i calcoli sono fatti eccoli qua fatti da qua come solito adesso ho provato a cambiare questo metodo mi sa che funziona questo un metodo qua l'ho tirato fuori da poco questi questi giorni l'ho studiato e speriamo che mi funziona anche per voi ok niente buona giornata e aspetto il vostro commenti e mi piacerebbe iscrivi che scrivete il vostro commenti un piacere di leggerle io rispondo quando lo posso ok le grazie mettete mi piace che non ancora scritto si iscrivi e andiamo avanti e speriamo che questi stati che porto bene a tutti ok ciao ciao da karim buongiorno buongiorno a tutti buongiorno allora per le previsioni di lotto o chi vuole approvare questi questo ambo ambetto per vari napoli e tutti e speriamo che escono il primo colpo se non si continua fino a sabato prossimo per tre colpi comunque ok allora iniziamo bene questa settimana speriamo che torniamo alla nostra visita come sempre mi raccomando giocate sempre poco mi raccomando e speriamo bene ok allora 12 47 da domani ma 24 maggio martedì 24 maggio per tre colpi ok questi sono previsioni dell'otto e io lo sapete che si escono al primo colpo cambio ok di solito riesce anche un numero uno su napoli uno su bari però si continua lo stesso perché numeri non hanno memoria memoria ok e speriamo bene e auguro a tutti voi buona giornata e buona fortuna per domani per il 10 all'otto già pubblicati anche milioni dei ok per il super l'otto adesso vedo se riesco a pubblicare anche quelle comunque lo trovate sempre nel canale youtube che non ancora scritto si iscrivi e speriamo bene ok i calcoli sono fatti eccoli qua fatti da qua come solito adesso ho provato a cambiare questo metodo mi sa che funziona questo metodo qua l'ho tirato fuori da poco questi questi giorni l'ho studiato e speriamo che mi funziona anche per voi ok e niente buona giornata e aspetto i vostri commenti e mi piacerebbe che scrivete i vostri commenti un piacere di leggerli io rispondo quando posso ok e grazie mettete mi piace che non ancora scritto si iscrivi e andiamo avanti e speriamo che questi stati che porto bene a tutti ok ciao ciao da karim buongiorno buongiorno a tutti buongiorno allora per le previsioni del lotto o chi vuole approvare questi questo ambo ambetto per bari napoli e tutti e speriamo che escono il primo colpo se non si continua fino a sabato prossimo per tre colpi comunque che allora iniziamo bene questa settimana speriamo che torniamo alla nostra visita come sempre mi raccomando giocate sempre poco mi raccomando e speriamo bene ok allora 12 47 dalla domani ma 24 maggio martedì 24 maggio per tre colpi ok queste sono previsioni dell'otto e io lo sapete che si escono al primo colpo cambio ok di solito riesce anche un numero uno su napoli uno su bari però si continua lo stesso perché numeri non hanno memoria memoria ok e speriamo bene auguro a tutti voi buona giornata e buona fortuna per domani per il 10 all'otto ho già pubblicati anche per il super l'otto adesso vedo se riesco a pubblicare anche quelle comunque lo trovate sempre nel canale youtube chi non ha ancora scritto si iscrivi e speriamo bene ok i calcoli sono fatti eccoli qua fatti da qua come solito adesso ho provato a cambiare questo metodo mi sa che funziona questo metodo qua l'ho tirato fuori da poco questi giorni l'ho studiato e speriamo che funzioni anche per voi ok e niente buona giornata e aspetto il vostro commenti e mi piacerebbe iscrivi che il vostro commenti un piacere di leggerle io rispondo quando lo posso ok le grazie mettete mi piace che non ancora scritto si iscrivi e andiamo avanti e speriamo che questi stati che porto bene a tutti ok ciao ciao da karim buongiorno buongiorno a tutti buongiorno allora per le previsioni del lotto o chi vuole approvare questi questo ambo ambetto per bari napoli e tutti e speriamo che escono il primo colpo se non si continua fino a sabato prossimo per tre colpi comunque ok allora iniziamo bene questa settimana speriamo che torniamo alla nostra visita come sempre mi raccomando giocate sempre poco mi raccomando e speriamo bene ok allora 12 47 da domani ma 24 maggio martedì 24 maggio per tre colpi ok queste sono previsioni del lotto e io lo sapete che si escono al primo colpo cambio ok di solito esce anche un numero uno su napoli uno su bari però si continua lo stesso perché numeri non hanno memoria 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 ok e speriamo bene e auguro a tutti voi buona giornata e buona fortuna per domani per il 10 all'otto già pubblicati anche milioni dei ok per il super lotto adesso vedo se riesco a pubblicare anche quelle comunque lo trovate sempre nel canale youtube chi non è ancora scritto si scrivi e speriamo bene ok i calcoli sono fatti eccoli qua fatti da qua come solito adesso ho provato a cambiare questo metodo mi sa che funziona questo metodo qua l'ho tirato fuori da poco questi questi giorni l'ho studiato e speriamo che mi funziona anche per voi ok niente buona giornata e aspetto al vostro commenti e mi piacerebbe che scrivete il vostro commenti un piacere di leggerle io rispondo quando lo posso ok le grazie mettete mi piace che non ancora scritto si scrivi e andiamo avanti e speriamo che questi stati che porto bene a tutti ok ciao ciao da karim